ben ritrovati nuovo su review in you brevissima recensione ho acquistato su amazon questa confezione da 20 colori assortiti sono pennarellini della stabilo boss garanzia quindi magari possono interessare agli studenti o chi va all'università ma anche per lavoro 20 pezzi l'avevo acquistati a 16 euro scontati adesso guardo sul sito vi lascio il link in descrizione della pagina costano 15 ore 29 ottimo acquisto questi sono i vari colori sono quelli classici ci sono poi ovviamente anche i colori color pastello eccetera ma io cercavo quelli classici c'è il blu in tre colorazioni blu azzurro blu un po più scuro verde acqua c'è insomma diverse colorazioni quindi queste diciamo sono quelli un po classici il la punta e 0,4 e che dire sono originali a questo prezzo ne vale davvero la pena vi lascio il link in descrizione se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela alla prossima review